E adesso ti invitiamo Se quel trimone di Simone non l'avesse preso all'ultimo momento, cazzo, ci sarebbe anche lui Vedi che potenza emettite l'intanto che invito Tommaso Dimmi Tommi se ti è arrivato l'invito No, faccio l'ingresso rapido al volo, faccio io Sì, aspetta che mi metto un secondo Una roba Ma scusa, ma l'ha scaricato anche Simone? No, Simone si è messo i soldi nella carta per andarlo a prendere l'ultimo giorno e tipo di tre ore era finita l'offerta Con il Mona che fa le cose sempre all'ultimo Io devo vedere una roba Cazzo, meno venti velocità di movimento mirando più cento per cento velocità proiettili Sono un po' indeciso Ardu, vai nella tua classe Fai in crea una classe, vai in modifica classe Dimmi cosa hai in tattico No, no, aspetta, cosa ripeto Vai in crea classe, metti quella che hai creato prima Sì Boh, sai già come metterti i mirini con le robe lì? Sì, sì, ho già messo Ok, dimmi cosa hai di secondaria Cosa vuol dire? È pistola alfa Clicca e metti un fucile a canna liscia Non ho un cazzo di questo Non hai un fucile a canna liscia? Zero Che ne so Clicca sopra Vedi? Pistole, fucili a canna liscia, lanciatori C'ho Eh, pistola bravo, pistola c'è Eh, clicca R1 Eh, R1 Eh, dovrebbe metterti i fucili a canna liscia Ho un lanciatore alfa No, sei troppo Clicca L1 No, fucile a canna liscia non ho niente Ok, vabbè Dimmi cos'hai di tattico Oddio Eh Di tattico Ah, granata Mettiti Mettiti uno stimolante Così quando hai poca vita Premi L1 e ti risale Ok E letale Letale semtex Però se non ce l'hai granata E potenziamento da campo Mina di prossimità Che la tiri per terra Esplode Che si cade sopra Aspetta che c'ho qualcosa Di mina di prossimità Puoi mettersene un puntino giallo Clicca Clicca E te la metti Non mi fa far niente Vabbè Lascia così Allora Specialità Mettiti Il primo Antischegge Eh, o genere E basta Ok, vabbè Il secondo Vedi sei tracciante Se non importa Come si fa? Eh, assassino Ok, vabbè Il terzo Ok, spericurato Wildcard Vedi se ce l'hai Pistolero Che ti permette Di mettere più Accessori All'aria No, devo arrivare A livello Allora giochiamo così Intanto Tommi Ci sei tu? Eh, sono qua da 20 minuti Aspetto Eh, ma se non Russi Anche meglio Violate Violate Eh Scusa, stai facendo carriera, Nick? Ah, no Sto facendo altrimenti Ah, perché tu muori al 100% Sì, vai a prendere Rush America, Rush America, Rush America Ditemi Eh, vabbè Eh, anche io avrei votato Rush Ho votato tutti America 1 a 8 GG Vabbè, voto anch'io a sto punto Perché sono a livello 1? Perché mi sa che è iniziata una nuova stagione Anch'io sono sceso Ma non arriverò mai a livello 20 Ma vaffanculo Non è male sta mappa Eh, sta mappa è buona Piccolina, però Non andate al centro Perché sennò vivi State sempre ai lati Che sennò vi inculano Da 40 lati Che divertimento c'è? Oddio Se non vuoi morire ogni secondo Cioè, non fai neanche il tempo uscire Che ti ammazzano Se invece stai sui lati Ne falci 48 Dai Ardo Il tuo obiettivo è arrivare a ratio 1 No, le altre volte eri 0.3 Adesso è 0.69 Il tuo obiettivo Dio cane Non è scontato Arriva la rate 1 Spesso non ci arrivo neanche io Io tra mezz'ora vado a dormire E anche io Eccali Mi hanno fatto sciare sta domenica Certo Che cavo ha il laser di... Si, quello lì ha le skin Qualcuno di voi va Vabbè Mi hanno inculato in 48 Ah, sciare sta domenica No, si Vabbè Perché morire Quando puoi perfettamente rimanere con mezza vita? Madonna che male Vabbè Il laser è impossibile Boh, in realtà sono solo i colori dei proiettili Non cambia danno Mi ha già acceso Eh Abbiamo un fucile forte Questi qua non sono male Per quanto rende tempo Dio cancro Dio cancro Mi ha sgonzato Mi ha sgonzato Mi ha sgonzato Tu l'ho eliminato tu prima No, mi ha sgonzato No, mi ha sgonzato No, mi ha Questa è un funds Mi ha sgonzato Eccolo Non mi ha sgonzato Che c'è Ti giuro Ma Ma guarda te Quello che è salito sul tetto con il laser Non l'ho ucciso per pochissimo Finito i colpi avevo Ha messo la torretta sul tetto Porca Devo andarla a far fuori Aiaiaia Io non ho tirato nessuno Ho tirato una mina Tant'è non ti colpisce E si fa a mettere la mina di prossimità L1 e R1 insieme Dio cancaro Ti ho inculato da dietro Riccardo in diretta Eh ho visto Ora che mi inculano mentre Porca puttana Non può uccidermi lì Cazzo avevo tirato la prima Vigionamento Guarda che va a prenderselo Quel coglione Mi ha detto Mi ha fottuto la cassa Ma vaffanculo C'è uno qua davanti Ma sono ovunque Ma veramente fa cagare sta No a me piace E ci può muovere Eh per quello ti diri che devi andare sui lati E sono lati e tutto centro Non può fare un caos Vai dentro gli edifici e non ti beccano Tu becchi loro Dai Oh è a pochissimo Quello con laser Cazzo 4241 Siamo Non l'ho ucciso Non l'ho ucciso con un fucile a pompa Quel coglione Aveva l'armatura E qua gente Nel'ho ucciso Oh mio cane Vuoi farmi ingelosia Lassate tranquilli Cabo c'è Dio Ma dove cazzo era Non ci credo Resto qua Porco Dio Ho sparato un manichino Non ci credo Carvalho 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 Del porco Dio No vabbè Ho lagato Mentre stavo uccidendo uno Porca troia Oh c'è la mia Ha messo Ha messo La mitragliata C'è quel nabbo lì Che è fermo Nell'angolino Uno sono io Non tu Quello o quell'altro Ragazzi Ho fatto una tripla Scandalosa Erano tutti e tre fermi Sono a tre kill di fila 0-0 Erano tre fermi Uno dietro l'altro Questo qua Che guarda la porta Elicottero di supporto Bello Bisogna Mirata Oddio Boom Che sborrata Oh sto devastando Sta partita Sto facendo schifo io Se il mio elicottero Non sta uccidendo nessuno Dio latte E siamo in netto Vantare Duffato del set Confermo Ma Ma Carburante Finito Arvalent 42 Esce Onore Siete in partaggio Pulito Ragazzi sono in una mega serie Non so quante chi sto facendo Voglio vedere Ragazzi Questa è la mia miglior partita Della vita 45-15 45-15 Porca troia Migliore giocata Quanto ho fatto io 60 Noi 10 Siete in partaggio